Cercare la verità, trovare giustizia, consentire a questo paese di andare avanti. Le parole sussurrate da Tracy, mamma della piccola Alexandra, una delle 246 vittime dell'esplosione del 4 agosto di tre anni fa al porto di Beirut, racchiudono il senso dell'esistenza, quella dei libanesi sopravvissuti che trascinano i giorni con l'unico obiettivo di sapere chi e perché ha seminato morte e distruzione. La catastrofe di tre anni fa non ha solo, si fa per dire, ucciso. Ha devastato il porto e ha zerato tutte le attività connesse, ridotto alle macerie e dalla fame un terzo della capitale. Ha alimentato la rabbia sociale di quanti alle 18.09 del 4 agosto 2020 hanno perso affetti e cose. E la benché minima speranza di futuro. Tre anni dopo, l'enorme cratere che si è aperto sulla superficie sventrata inchioda magistratura e classe politica le loro responsabilità. Ma le indagini non hanno ancora restituito chiarezza e troppi perché e per come di quell'esplosione e della spaventosa crisi economica che ne è seguita. A poco serve l'annuncio del giudice Tarek Bitarra, capo dell'inchiesta, che intende riprendere il lavoro di fatto bloccato dalle forti pressioni dell'elite politica libanese, dai vertici della sicurezza nazionale, dalle autorità locali in carica, tutti indagati che hanno finora presentato ben 25 richieste di ricusazione, affinché tra le macerie del porto resti sepolta anche la verità. Incuranti delle pressioni internazionali, dalla diplomazia americana, agli appelli del Papa, passando per le rappresentanze diplomatiche presenti a Beirut. Grida a giustizia anche l'altra emergenza, che presto avrà nuove conseguenze devastanti sul paese, e di cui si fa portavoce Maya Maisud, ricercatrice dell'Osservatorio per i diritti umani Human Watch. Le scorie di oltre 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio, stoccato illegalmente per anni in un hangar del porto, restano lì a preparare una nuova catastrofe.